Aspetta un minuto, è così che finisce? Ci sono un sacco di domande rimaste senza risposta Sei tu Luke Skywalker? Sì Ecco, ho qualcosa per te Una lettera Caro Luke, se i miei calcoli sono esatti Dovresti ricevere questa lettera nel momento esatto in cui la DeLorean scompare Ho vissuto felicemente questi ultimi sei mesi nell'anno 1885 La scarica del fulmine che... 1885! Allora Doc è vivo! Insomma è nel vecchio West, è vero ma è vivo!